Grazie a tutti. 10 ottobre 2014, prima giornata di mobilitazione di un autunno che sarà inevitabilmente di lotte nelle piazze perché gli studenti, i docenti, gli ATA hanno capito che la buona scuola di Renzi non esiste, non è nient'altro che un progetto di destrutturazione e di asservimento della scuola ai poteri forti e al mercato. Noi vogliamo una scuola capace di futuro, una scuola capace di costruire i saperi, una scuola nella quale gli studenti vengano rispettati e possano costruire insieme agli insegnanti i saperi critici, quelli che servono nel domani e nel futuro. Per queste ragioni nel solco di Don Milani diciamo no alla buona scuola e sia una scuola che sia veramente capace di futuro. E salutiamo Andrea di prendere il sociale. Parle lo, parle lo, parle lo.